Lo scorso 22 novembre Giulia Salemi ha tenuto un discorso alla Camera dei Deputati contro la violenza sulle donne e questo sarebbe molto piaciuto a Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio, infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, vorrebbe Giulia Salemi nel proprio team per inserirla in una campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere. Giorgia Meloni ha molto apprezzato l'intervento che l'influencer di origini persiane Giulia Salemi ha di recente tenuto a Montecitorio, su invito della presidenza della Camera, contro la violenza sulle donne. Si legge sul settimanale. E così la Premier progetta di utilizzarla a breve giro come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere. Dal grande fratello vi pa le battaglie civili. Il passo è notevole. Tanto che per la bella iraniana il futuro potrebbe significare una inaspettata svolta professionale. Questa indiscrezione al momento non è stata commentata né da Giulia Salemi né dal team di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni e Giulia Salemi. Il discorso alla Camera dei Deputati? È dalla scuola e dai giovani che occorre partire per diffondere quei valori sani che da soli e meglio di qualunque disposizione di legge possono tutelare le ragazze che saranno poi le donne di domani. A loro affidiamo quella rivoluzione culturale che può sconfiggere la violenza contro le donne. Chiunque fa comunicazione, informazione, politica o intrattenimento ha il compito e in alcuni casi il dovere di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore. Io nel mio piccolo cerco di mettere la mia influenza al servizio di qualcosa di socialmente utile. Ho lanciato negli anni delle raccolte fondi. Settimana scorsa ho consegnato personalmente tre macchinari al reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Quello che noi facciamo oggi è di tenere la luce sulla data del 25 novembre. Per ricordare che esiste la violenza sulle donne e che questa violenza va combattuta e non solo in questa giornata. Ma tutti i giorni. Qualche mese fa sono stata invitata a una trasmissione televisiva. Le Iene. Per rivolgere in farsi un messaggio alle donne iraniane. Quindi vi prego ora con tutto il cuore di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani. Non conosce confidi geografici, culturali o economici. Non conosce confidi geografici.